Buon pomeriggio, siamo alla trattoria Iperari dove abbiamo girato l'ultimo pezzo della giornata con Paolo Marra, parliamoci chiaro, una giornata intensa che ci ha visti prima nel borgo, nella piazza, poi nell'agriturismo Zangazzo con una ricetta e adesso qua la trattoria Iperari di Badolato Marina con un'altra ricetta. Io ringrazio Antonio Bruzzese che ci ha dato questa opportunità di portare Paolo Marra a Badolato, ringrazio Video Calabria, sempre presente nelle manifestazioni importanti, quindi Video Calabria è sempre disponibile a tutte queste manifestazioni, che dire, noi come Proloco continuiamo a lavorare anche in periodi così di Covid diciamo, naturalmente a debita a distanza, abbiamo fatto questa bella giornata e quindi adesso siamo giunti al termine. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio Antonio per Libere TV che è venuto anche lui a Badolato e quindi grazie a tutti, un ringraziamento all'Umpri regionale all'Umpri provinciale. Alla prossima, grazie.